Giuseppe Nirta, 83 anni di San Luca, provincia di Reggio Calabria, considerato un boss dell'Andrangheta, è morto a Parma, dove era detenuto dal 2016, nella sezione di alta sicurezza del carcere, dopo il suo arresto avvenuto a Locri nel 2008. Era stato ricoverato la scorsa settimana, Nirta, alias Versu, era indicato come il capo della omonima cosca di San Luca, federata con gli strangio, detti Yankee. L'anziano boss era il padre di Giovanni Luca Nirta, il vero obiettivo dei killer che il giorno di Natale del 2006 misero in atto l'agguato in cui morì, per errore, Maria Strangio, moglie dello stesso Nirta e madre di tre figli minorenni. Nell'agguato rimase ferito inoltre un nipote di 5 anni, di Maria Strangio. La morte di Maria Strangio fu la causa scatenante della strage di Justenburg in Germania il 15 agosto del 2007, uno degli episodi più curenti della storia dell'andrangheta. Nella strage, infatti, furono uccise sei persone, Tommaso Venturi di 18 anni, Francesco Giorgi 16 anni, Francesco Pergola e Marco Pergola 22 e 20 anni, Marco Marmo 25 anni e Sebastiano Strangio 39 anni. Le vittime, nel momento in cui i due killer che missero in atto la strage, entrarono in azione, erano appena uscite dal ristorante da Bruno, di proprietà di Sebastiano Strangio.